Benvenuti nel mio lunedì! Tornata a casa da scuola mi sono preparata un po' di insalata con carote, formaggio e anche un pezzo di focaccia mentre ho cucinato le zucchine per stasera e per domani a pranzo. Poi mi sono subito messa a fare matematica per la verifica di domani fino alle 6 perché poi ho avuto un'ora di guida. Oggi infatti era la mia quarta guida e devo dire che stanno procedendo per il meglio. Ritornata a casa mi sono sempre messa a fare matematica, un bel po' di esercizi e a studiare anche le definizioni dei limiti. Avrei dovuto anche ripassare scienza italiano e studiare greco, però matematica essendo domani mi premeva di più. Per cena abbiamo preparato di nuovo io e papà questa insalata con gli straccetti di pollo. Ne siamo ossessionati ma perché sono strabuoni ci si mette anche poco e poi ho mangiato le zucchine e preparato a pranzo. Ho preparato poi la cartella, la borsa di danza e il pranzo per domani e una volta che mi sono messa la mia camicia la notte meravigliosa ho fatto un po' di skin care prima di andare a letto. Natte!